C'è una nuova macchina? C'è una nuova macchina? Jennifer, Stan e Dimitri, miei soci. Ciao. Mi fai impazzire. Perciò, dimmelo. Allora, che cosa non ti piace di me? Non sei per niente il mio tipo. Non sono il tuo tipo? Ferma, ferma, ferma! Ferma! Ferma, ferma, ferma! Ferma, ferma, ferma! Ferma, ferma, ferma! Perché le donne devono sempre opporre una cazza di resistenza? Grazie a tutti.